eccoci qua amici di miss e mister topolini io sono tu sai chi sono meglio così io sono mister rocco piacere tu chi sei mi lascio mi lascio mi lascio mi lascio ok aspirante mister numero mister numero due numero due ok allora mi lascio di dove sei vengo dalla serbia ok ma abiti qui a trieste no abbiamo falcone insomma comunque qui in friuli tanto tempo due anni due anni ok io ero colpito dal tuo look quanti anni hai 15 cioè 15 anni e sei già un armadio a due ante sono serbo essere tutti così li tutti belli palestrati più o meno ma se le signorine cosa stanno pensando mi devo andare a fare un giro lì e le donne invece come sono lì so che sono molto bene infatti più belle dell'italiano così mi hanno detto è ero allora quando inviti a zio rocco ma allora senti tu sei uno studente immagino studente di di sandro pertini scuola liceo turistico turistico cosa ti piacerebbe fare dopo la scuola dopo la scuola buono sono spero di un giorno un giorno di diventare un attore anche se con la mia scuola non c'entra niente vabbè che vuol dire tu sei portato alla recitazione sì tu sai che gli attori quelli famosi quando si arriva a un certo livello no gli attori famosi è un bel lavoro ma attore di che cosa dovendo scegliere horror avventura amore commedia 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 c'è un attore tipo che ti piacerebbe diventare tipo mi piacerebbe diventare tipo tipo come tipo charlie c beh quindi già le idee chiare sì ok mi guardi come se fossi un cartone animato però mi guardi strano ma allora senti ben arrivato a mister topolini grazie sarà una bellissima esperienza per te che sei giovane sono convinta visto già nella zona cassi in quante belle ragazze ci sono però io so che tu sei fidanzato a quanto tempo quattro mesi a da pochissimo si innamorato un po da non si vuole sbilanciare ma lo vedo lo vedo preso è si chiama valeria valeria lei di là di qua ho capito va bene senti in bocca al lupo divertiti quella è la telecamera adesso puoi dire e salutare chi vuoi saluto mia ragazza dai le mando un bacio anche ciao amore e siamo a posto a posto così bene allora in bocca al lupo divertiti è bravo ti ringrazio ciao